Prove di accordo fra sindacati ed amministrazione comunale sulla questione alba. Nell'incontro di ieri in comune le sigle sindacali si sono impegnate a presentare in forma ufficiale una nuova proposta per uscire dallo stallo entro il 12 luglio. Allo stesso tempo l'amministrazione si è impegnata a sottoporre la stessa al vaglio del collegio dei revisori al fine di portarla in consiglio. Escluso, almeno per il momento, il cambio contrattuale alla base dell'ultima crisi fra sindacati e dirigenza. I rappresentanti dei lavoratori infine hanno assicurato che non vi sarà nessun blocco della raccolta e che nonostante lo stato di agitazione si procederà con il servizio come richiesto anche dalla stessa amministrazione comunale che ha intimato alla società alba di ripulire la città entro 72 ore.